Paolo Sogni intanto, Paolo, aia! Qui vediamo questo tiro di Figo Eccolo qua, e poi voglio chiedere a Gianluca Zambrotta Dopo questo tiro di... Figo! Dopo il gol di Figo, hai visto quel colpo di tacco Figo Gianluca? La classe è tanta! La classe rimane sempre Oh ma è faticoso sto sport Abbastanza Lo sentiamo dal fiatone Tra l'altro è stato uno dei più corretti Zambrotta Perché ieri lo ha chiamato per uscire e è uscito subito Tanti fanno finta di non sentire